Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Nella notte, il ministro della difesa Guido Crossetto è stato urgentemente ricoverato all'ospedale San Carlo di Nensi per una possibile pericardite. A seguito di persistente dolore al petto da ieri mattina, giunto al pronto soccorso a piedi, il politico è stato indirizzato al centro cuore, specializzato in controlli cardiovascolari. I primi esami confermano la sospetta pericardite, ma la coronarografia ha escluso problemi cardieci. Attualmente, Crossetto rimane sotto osservazione in terapia intensiva, e il ricovero sarà prolungato. In programma all'inaugurazione dell'anno accademico dei Carabinieri, il vice premier Salvini e Tajani esprimono solidarietà, così come i presidenti di Senato e Camera. Nel 2013, Crossetto aveva già affrontato problemi cardiaci ammettendo un passato eccesso di fumo. La pericardite, un'infiammazione del pericardio, può derivare da infezioni virali o, più raramente, batteriche, fungine o parassitarie.